Buonasera, Giancarlo Porta, sindaco di Macerio, il comune dove si è della seconda famiglia di Silvio Berlusconi, Veroni Calario, noi la conosciamo perché lei scrive una lettera al Corriere della Sera da sindaco in cui in qualche maniera tira fuori tutto il suo rammarico sulla Lega, su quello che sta diventando la Lega e profetizza la caduta di Bossi e quello che sta accadendo. La caduta è il troppo potere della Lega, vedevo questa bramosia del potere anche nella mia piccola brianza, tanto per capirci. Lei parla dei bocconi amari che ha dovuto ingoiare, quali sono stati questi bocconi amari? I principali ispiratori della lettera furono il no all'arresto alla Camera del ministro Saveri Romano, di Marco Milanese e di Cosentino, questi sono stati i miei primi bocconi amari. Oltre a tutto quel che andiamo a vedere ora a livello nazionale, lo vedevo in brianza, questo modo di scambiarsi poltroni, occuparne due o tre per volta, tre stipendi per volta, senza mai aver ottenuto un voto neanche come amministratore condominiale, stipendi che arrivano magari a 9-10 mila euro al mese, appunto senza mai aver superato un'elezione democratica, diciamo così, da parte di alcuni esponenti leghisti. Ma come è arrivata la Lega dal cappio? Mi hanno anche raccontato che Bossi all'inizio si arrabbiava con chi si presentava in giacca e cravatta, no? Insomma, io chi viene in giacca e cravatta lo prendo a calcio nel sedere. Come si è arrivata alla Porsche di Belsito, affittata? Ma ci sono sempre state le due leghe, secondo me, che per fortuna, una potrebbe essere quella che dice Facco e che in parte dico anch'io, che però rilego direi nel 10-20% dei militanti o rappresentanti della Lega ad alti livelli, quelli della Porsche. L'80% penso sia gente che lavora per la Lega, ci mette soldi, si impegna, versa la quota mensile al partito, tutto a norma di legge ma la versa, a differenza di molti parlamentari o di europarlamentari. Cosa che risulta, non facessero sempre dalle carte Umberto Bossi e suo figlio. Nel figlio era Umberto Bossi. Del 2004 sembrerebbe che Bossi non l'abbia più fatto e men che meno Renzo Bossi dal 2010. Mentre io versavo il mio 100 euro, non per personalizzare, sui miei 900 euro, versavo 900 di stipendio, 100 li versavo alla Lega. Lei è stato espulso poco dopo la pubblicazione di quella lettera, praticamente. Sì, 4-5 mesi dopo. Come si è fatto vivo il partito centrale con lei? Il partito in modo tristissimo, neanche con una telefonata e con nulla, l'ho saputo tramite i giornali locali di questa mia espulsione, se non che mi è arrivata una raccomandata da Via Bellerio, ma nessun politico della Lega di riguardo, che sia Giancarlo Giorgetti, segretario della Lega Lombarda, o Matteo Salvini, il vice, non hanno messo la firma su questa cosa e c'ho mio onore. Devo dire che mio onore perché è stata messa da un burocrate di Via Bellerio, tanto che era l'ex autista di Calderoli, Bosatra. Quindi la mia raccomandata di espulsione dopo 22 anni di Lega è stata firmata da un burocrate di Via Bellerio. O è un'onta o per me è un onore, dipende dai punti di vista. Ma lei che sentimenti ha per Umberto Bossi? Io ho molto affetto per Umberto Bossi. Sono molto vicino a Umberto Bossi, non lo faccio per vendermi, perché io ho parlato il 29 settembre, il compleanno di Berlusconi, fu pubblicata quella lettera, quindi non mi vendo. Ma Bossi ritengo sia una grande persona, non l'ho conosciuta bene prima del 2004, ma mi dicono, come diceva lei, che è una persona molto dura. Qualsiasi riunione politica che avveniva, Bossi presente, se qualcuno si permetteva di contraddirlo, veniva insultato con parole che qui non posso dire. Quindi per capirci questo è Umberto Bossi. Ma può essere identificato come il politico duro, il politico che vuole cambiare il mondo, diciamo l'Italia in questo caso. C'è riuscito? Direi proprio di no. Direi proprio di no. Sulla seconda fase del dopo malattia ritengo che lì sinceramente ha avuto grosse difficoltà per questa malattia, che è riconosciuta da tutti, come sento stasera, e può essere, mi riallaccio al discorso di stasera, può essere benissimo, come ritengo anch'io, quindi mi abbino a Tosi, a Salvini, eccetera, che Bossi sapesse nulla. Loro dicono, secondo me, poteva sapere sì e no un 5% di quello che gli accadeva attorno. Le posso fare degli esempi banali. Pensava che suo figlio potesse essere laureato perché gli fece vedere il librettino dell'università. Non è così, come tutti sapete. Risulta che dei soldi siano stati spesi per comprare dei diplomi, sempre secondo quello che dicono i magistrati. E penso che Bossi non abbia mai comandato queste cose, ordinato di fare queste cose. Avrebbe voluto magari che suo figlio si diplomasse o si laureasse, come tutti i ragazzi in gamba d'Italia fanno. Non con questo metodo. Ha sentito nella pontida del 2010 che diceva che sta studiando economia, non so se sta frequentando qualcosa. Cioè, purtroppo... C'era una fuga dalla realtà, mi sta dicendo. Una fuga dalla realtà. Ma il sogno della legge è finito. Gestito da un cerchio. È finito. Cioè, nel senso che il cerchio ha tenuto racchiuso Bossi anche da queste notizie. Purtroppo anche queste notizie venivano filtrate. A Bossi non veniva detto che la base aveva del malessere. Non veniva detto probabilmente di tanti sindaci come me che si lamentavano. Io a me sono stato fortunato che è successo in modo eclatante appunto con il Corriere, scusate se cito il giornale quotidiano nazionale. Ma in ogni caso ho avuto questa fortuna, ma molto, molto malessere. Poi questo modo di salvare queste persone alla Camera. E queste nomine di cui parlavamo prima, fin meccanica, fin cantieri, questo potere leghista che si espandeva, dava molto malessere a noi comuni mortali. E Bossi non lo percepiva. Bossi veniva detto che era il migliore, il più bravo e il più bello. Porta tornerà nella Lega adesso? Io non sono nella Lega e per fortuna in questo momento non sono nella Lega. Io se ci fosse una vera svolta con Maroni, senza i personaggi del cerchio magico, ma che devono essere cacciati via, perché qui si sta giocando una carta un po' opaca. Bossi si dimette, Belsito si è dimesso, ma poco cambia. Belsito era ovvio che si doveva dimettere. Bossi poteva rimanere segretario o presidente comunque una grande nomina, un grande onore e Bossi è la Lega. Ma non si può tenere certi personaggi, se no nella Lega non cambia nulla. Ha portato qui una camicia? E mi perdoni, con il triunvirato partiamo già male. Cos'è questa camicia? È una camicia che comprerai a Pontida, che è firmata da Umberto Bossi con il pennarello indelebile e che non ho mai indossato per, diciamo così, per non lavarla, come si suol dire. È la firma di Umberto Bossi. Senta come applaudono da Lendinara. Esatto. Saluto Emanuela Munerato. Ciao Emanuela. Lei ce l'ha, Munerato, la camicia firmata da Bossi? Certo. Ne ho cinque o sei, perché le ho anche consumate. Lei le ha consumate. Le ha consumate, invece il sindaco di Macario non se la mette, ha capito? Non se la mette finché la Lega non torna a essere quella di prima, è così? Sì, sicuro. Vorrei che partisse dal 1995, vorrei che partisse da lì. Grazie. Da quando mollò Berlusconi, diciamo. Grazie, grazie al sindaco di Macario. Giancarlo, un bravo amministratore, ritornerà con noi. Come Munerato? Si ritornerà con noi, dice. Munerato, cosa dice? Giancarlo, un bravo amministratore, ritornerà con noi. Bene.